Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Tottorina è stato venduto secondo lei da qualcuno? È stato venduto dal suo miglior amico, che era Provenzano, insomma, è un fatto accettato, un fatto risaputo, anche se qualcuno lo vuole nascondere. La certezza su questo non c'è, dobbiamo dirla per onore alle crone, lei sa che noi abbiamo rapporti a volte conflittuali su questo tema, certamente si dicono delle cose anche nella sentenza sulla trattativa che ha mandato Assolti, si dice che si è fatto un'opera di tutela della figura di Provenzano, si usano termini diversi, ma su Provenzano si sono fatte delle opere di tutela, si parla di patti indicibili. Diciamo che probabilmente Provenzano poteva impedire la cattura e non l'ha impedita. Ecco, anche perché le faccio una domanda...